Ciao a tutti, siamo all'Hash Lock di Augusta con Vincenzo Partexano, un maestro musicista di chitarra che proviene proprio dalla Lizard, da dove escono tanti dei più bravi musicisti che abbiamo. Spiegaci bene, che cos'è intanto la Lizard, così capiamo chi sei. La Lizard è un centro didattico che ha coniato la prima didattica in italiano e poi ha approfondito e sviluppato un metodo che riesce a coinvolgere, a portare da un livello di propedeutica fino ad accompagnare il ragazzo o la ragazza che sono promettenti e possono studiare a determinati livelli fino al diploma, che gli permette di essere musicista a tutti gli effetti. Vincenzo terrà un corso qui all'Hash Lock, come abbiamo detto, e chi può partecipare a un corso di chitarra? Allora, teoricamente tutti possono suonare la chitarra, indipendentemente dalla predisposizione musicale e soltanto la capacità dell'insegnante di coinvolgere l'interessato o l'interessata allo studio e quindi a non trascurare sia le capacità di quella persona, indipendentemente dalla predisposizione, e sia l'interesse, soprattutto stimolare l'interesse, perché soprattutto per i ragazzini, per gli adolescenti è importante avere un interesse costante che gli permette di non abbandonare lo strumento e di andare sempre avanti, fin quando posso. Tu hai tre lezioni proprio qui all'Hash Lock, in via 10 ottobre, numero 114 ad Augusta, in che giorni possono trovarti? A me, io sarò qui per, di solito, il martedì. Dalle ore? Dalle ore 15 a Libidu. Quindi il martedì, per chi volesse suonare la chitarra e imparare la musica, e quindi lo strumento a corde che abbiamo qui, che vedete, alza, alza, vediamo, non si vede, ecco, ora si vede. Chi volesse imparare a suonare quindi questo bellissimo strumento, il martedì, tutti i martedì, dalle 15 in poi, via 10 ottobre, numero 114, all'Hash Lock. Ciao a tutti.